Come è possibile che nessuno pensi alle vittime di queste situazioni, cioè create dai servizi sociali a noi, non si pensa a questo di finanziare le persone invece, delle associazioni di persone che hanno subito questi danni gravi e ho sentito che la regione Emilia Romagna vuole costituirsi parte civile, ma per quale ragione? Per difendere noi o per difendere delle persone che nei servizi hanno abusato del loro potere per queste cose, io questo lo vorrei proprio sapere e un'altra situazione mi preme molto dire, mi preme molto far riflettere, su un'altra situazione mi preme far riflettere le persone e cioè questo, che posizione vuole tenere la regione sulla libertà di cura, ha ancora quel progetto di volere sottrarre i bambini quando i genitori scelgono una cura che per le direttive mediche ufficiali non è la cura idonea? Cosa vogliono fare? Volere la sottrazione della patria potestà per chi ritiene di non voler vaccinare? Cosa domande che faccio al presidente della regione e a tutte le commissioni preposte? La ringraziamo moltissimo, Valeria speriamo di vederci sabato, cosa c'è qui a sabato? C'è una fiaccolata qui a regione Emilia molto importante e invito tutte le persone che possono partecipare alle 20 e 30 davanti al municipio, grazie. Bene, ciao, grazie.